san edith stein pensatrice tedesca di origine ebraica nacque a breslavia in polonia nel 1891 studiò filosofia a breslavia e gottinga colpita dalla autobiografia di teresa d'avila chiese il battesimo nel 1922 poi insegnò nel liceo delle domenicane di spira divenne carmelitana a colonia e assunse il nome di teresa benedetta della croce il regime nazista la sospese dalla scuola perché ebrea i superiori la trasferirono allora nel convento di echt in olanda nell'agosto del 1942 la gestapo la prelevò insieme alla sorella rosa ad auschwitz venne uccisa in una camera gas proclamata santa da papa giovanni paolo secondo l'11 ottobre 1998 e patrona d'europa con caterina da siena e brigida di svezia